E ora che Tonelli si dimetta. La richiesta arriva dal consigliere regionale di Forza Italia Mauro Febbo che nel corso di una conferenza stampa ha auspicato l'avvento di un nuovo presidente di Tua che dia certezze alla società pubblica di trasporto che, sottolinea Febbo, sta andando a rotoli. Inoltre il consigliere regionale di Forza Italia chiede che si sospendano immediatamente le procedure concorsuali in atto. Io ho fatto una segnalazione a chi di dovere per dire che secondo me c'era incompatibilità. Due organi ufficiali importanti, l'avvocato Valeri che è il capo dipartimento dell'avvocatura regionale ha detto che avevo ragione, che è incompatibile ma non lo ha detto a me, lo ha scritto alla Procura della Repubblica, lo ha scritto alla Procura della Corte dei Conti, lo ha scritto all'ANAC, lo ha ridetto ai massimi vertici della Regione Abruzzo. Il Presidente Anelli dice che io voglio fare campagna elettorale su questo fatto ma viene smentito perché adesso anche l'ANAC, l'ANAC che è l'organo dell'anticorruzione interno proprio attua, quindi proprio un suo dipendente, un suo funzionario, un suo dirigente che dice che è incompatibile. Io credo che il Presidente Anelli si debba dimettere per non continuare a fare ulteriori danni a questa società, peraltro l'ho invitato l'altra volta a sospendere i concorsi che sta facendo visto la semestrale della società che è in forte perdita. Lo sfido perché posso assicurare che se entro 48 ore non si dimette presenterò al difensore civico della Regione Abruzzo i nominativi dei tre dirigenti che vinceranno il concorso.